Ogni ministero è una chiamata di Dio per il bene della comunità. Sono le parole che il Papa ha rivolto ai sacerdoti e non solo per il 50esimo anniversario di una lettera apostolica di San Paolo VI. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Luca Ciciriello. Le finalità di ogni ministero sono il bene comune e l'edificazione della comunità, lo scrive Papa Francesco nel messaggio ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici nel 50esimo anniversario della lettera apostolica in forma di motu proprio, Ministeria Quedam di San Paolo VI. Nel contesto fecondo, ma non privo di tensioni, seguito al Concilio Vaticano II, questo documento ha offerto alla Chiesa una significativa riflessione che non ha avuto il solo risultato di rinnovare discipline normative, ma ha offerto un'importante prospettiva che ha avuto la forza di ispirare ulteriori sviluppi. Il Pontefice ricorda le recenti lettere apostoliche, in forma di motu proprio, con le quali è intervenuto sul tema dei ministeri istituiti. Non devono essere interpretate come un superamento della dottrina precedente, ma come un ulteriore sviluppo reso possibile perché fondato sugli stessi principi, coerenti con la riflessione del Concilio Vaticano II, precisa il Papa. Infine Bergoglio reputa utile la condivisione, visto quanto si sta vivendo col cammino sinodale. Desidero, ha concluso, avviare nei prossimi mesi un dialogo sul tema con le conferenze episcopali per poter condividere la ricchezza delle esperienze ministeriali che in questi 50 anni la Chiesa ha vissuto.